Una maschera enorme, una maschera gigante, una gigantografia di maschera dei migliori carnevali di Venezia che non si è mai vista, questo ci dobbiamo mettere in faccia, questa tutta la nazionale di calcio italiana si deve mettere in faccia, lei e il suo allenatore e non perché io sono sempre stata quella che ha difeso tutti, sono sempre stata quella che li ha sostenuti, soprattutto il suo allenatore abbiamo cambiato 270 moduli, abbiamo cambiato 270 centrocampi, abbiamo cambiato 270 giocatori senza un'identità, senza una quadra, poi sento parlare spalletti ai microfoni e dico probabilmente per come abbiamo chiuso anche questo campionato non siamo arrivati fisicamente in modo decente a questo europeo, ma fammi capire una cosa, i giocatori delle altre squadre non hanno giocato nei loro campionati europei, non hanno fatto le loro preparazioni, non hanno giocato tantissime partite come gli italiani, uguale, allo stesso modo, non mi pare che hanno fatto ridere e che sono entrati in campo senza dignità, senza personalità, senza andare su tutti i palloni, senza almeno provarci, dopo come sei arrivato a questa qualificazione agli ottavi di finale, cioè con un bucio in questo senso, dopo come sei arrivato, come minimo dovevi sputare l'anima in campo, come minimo dovevi metterci l'impegno, la voglia, la voglia di dire sono italiano, ho questa maglia e me la devo sudare, sto rappresentando una nazione che sta tifando a spadatratta nonostante stiamo facendo ridere, sto rappresentando una nazione di un tifo che forse, che forse non merita tutto questo, che forse non merita tutto questo schifo, difenderli oggi mi sembrano qualcosa di allucinante, poi Luciano Sfalletti mi parla di condizione fisica, ok? Non era solo quella, era anche quella ma non era solo quella, e allora io mi chiedo, hai fatto per caso un richiamo di preparazione, una preparazione differente dopo la fine del campionato? No, perché se così fosse è grave, è grave, perché questi hanno finito il campionato 20 giorni fa, un mese fa e tu che fai un'altra preparazione? Qualora fosse così è gravissimo, perché tutti i giocatori, vi ripeto, hanno giocato fino a un mese fa, tutta Europa ha giocato fino a un mese fa, tutta Europa e non erano neanche lontanamente combinati e disastrosi come noi fisicamente, eravamo inguardabili fisicamente, un centrocampo disagiato, ma in una partita del genere non puoi parlare neanche dei singoli giocatori, non ti puoi permettere neanche di avere il lusso di parlare dei singoli giocatori, perché non c'è da parlare di nessuno, perché è stata la squadra proprio che è entrata in campo con una testa sbagliata, con un approccio sbagliatissimo, è stata preparata malissimo, cioè tu arrivi agli ottavi di finale dopo aver buttato fuori la Croazia al novantottesimo, hai avuto questo lampo di genio, questa lampadina che si è accesa e che cosa fai poi? Entri in campo in questa maniera, in questa maniera, ma voi non vi meritate, io ve lo dico io, non vi meritate, non vi meritate assolutamente di rappresentare una nazionale italiana, non vi siete assolutamente meritati di rappresentare un popolo che vi ha difesi, io compresa, difesi, sostenuti, fino ad oggi gente dall'Italia che si è partita con bla bla car, con la macchina pur di risparmiare i soldi per venire a sostenervi, a guardarvi, perché questo per voi è un lavoro, ma deve essere anche una passione e deve essere anche un senso di appartenenza che non avete, punto e stop fisicamente, fisicamente. Sì è vero l'Italia va malissimo, va in ritardissimo su tutti i palloni con tutte le squadre questa sera contro la Svizzera, che non è la Spagna, che non è la Croazia con tutto il rispetto per la Svizzera, hai fatto una figuraccia barbina, peggio ancora della partita contro la Spagna, cento volte peggio ed era difficilissimo fare peggio della Spagna, era difficilissimo fare peggio della Spagna e dopo che hai avuto una grande manna dal cielo, che cosa fai anziché apprezzare e dare il culo in campo? No, mi dispiace ma stasera non ho nulla da dire e meno male, meno male che siamo usciti, meno male direi meno male perché altre figuracce del genere, noi che di dignità ne abbiamo da vendere, insomma non ne vorremmo fare più, anzi non ne vogliamo fare più, ovviamente direi, detto questo ragazzi miei mi dispiace per chi ci ha creduto come me, mi dispiace tantissimo, mi dispiace per voi e mi dispiace soprattutto per i detrattori della Nazionale, anche con un po' di cattiveria di queste settimane perché hanno avuto ragione loro, non sarò mai d'accordo con le cattiverie, non sarò mai d'accordo con gli insulti e le offese, ho prima visto un commento di un francese che si permette di dare degli imbroglioni a tutto il popolo italiano perché sta giocando Niccolò Fagioli che è stato squalificato per Ghebling, voglio ricordare a questo signore francese che non bisogna generalizzare, non bisogna mettere davanti e chiamare un popolo intero imbroglioni perché in questo caso mi incazzo e non poco e soprattutto una cosa importante e fondamentale, Niccolò Fagioli ha pagato per quello che ha fatto, ha fatto una squalifica, ha avuto una squalifica di nove mesi che ha portato a termine, quindi basta, basta con sta storia e basta con sta pantomima e basta soprattutto insultare un popolo intero perché diciamoci la verità, non è che vi potete, ci dovremmo togliere il cappello davanti a voi in tutti i sensi, scusatemi e scusa ma il bidet qua ce l'abbiamo a casa? Certo, almeno quello voglio dire, ragazzi mie belli vi abbraccio forte come se fossi lì e ricordatevi sempre che la vostra Lucri vi vuole bene e comunque di una cosa sono certa, sempre forse Italia perché io il patriottismo ce l'ho nel DNA, sono italiana e sono fiera ed orgogliosa di essere italiana, non sono una giornalista, no, no, sono un'appassionata e si vede pure, condividete il video. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.